Professor Fazzi, parliamo degli scenari futuri della Covid. Curva in discesa, l'Abruzzo è tornato in zona gialla, c'è un po' più di speranza? Sicuramente sì. La situazione dal punto di vista epidemiologico sta nettamente migliorando e quindi bisogna essere fiduciosi. Con ciò però non bisogna abbassare completamente la guardia perché è un virus infido, noi abbiamo visto come si comporta. Probabilmente non ci saranno moltissimi casi da qui a un mese, scenderanno fortunatamente i casi ospedalizzati, i casi gravi. Però questo virus circolerà in maniera minore, ma circolerà nei mesi caldi. Ormai sappiamo come si comporta. Ora, la strategia nostra qual è? È cercare di mantenere un atteggiamento corretto nei mesi caldi. E quindi di farlo circolare poco, in modo tale che la platea dei pazienti affetti da virus, quando ricomincerà a fare freddo, sarà il più possibilmente contenuta. Perché se no, riavremo comunque di nuovo dei casi nei mesi freddi del 2022-2023. Sarà Omicron? Non lo so. È possibile pure che sia ancora Omicron. E comunque non ci possiamo aspettare che da Omicron poi verrà generata subito una variante cosiddetta endemica. La natura agisce per gradi, non fa dei salti, diciamo, e quindi bisogna aspettare i tempi. Spero che nel 2023 probabilmente si arriverà ad una variante cosiddetta endemica, cioè una variante che è innocua per l'essere umano, che potrà produrre poco più di un raffreddore comune, una sindrome banale, sindrome influenzale. Però suppongo che nel prossimo autunno, nel prossimo inverno, avremo a che fare ancora con questo virus patogeno, che si chiami Omicron, o in altra maniera, io questo non lo so. Quindi la strategia è cercare di avere un comportamento corretto. Il comportamento corretto che dobbiamo cominciare ad avere anche da questo periodo, perché ci sono ovviamente dei rallentamenti per quanto riguarda gli obblighi, e quindi mascherina all'aperto no, probabilmente tra qualche settimana anche la mascherina al chiuso non verrà portata. Io voglio ricordare, cosa che ho fatto anche da questo emittente, che purtroppo questo virus, in particolare Omicron, si trasmette sì con le goccine del flugge, ma anche con l'Aerosol. Che cosa significa? Significa che se la trasmissione fosse stata esclusivamente con le goccine del flugge, avrebbe avuto senso il distanziamento sociale. E basta. Avendo invece la possibilità di essere trasmesso per l'Aerosol, è ovvio che nell'ambiente all'aperto l'Aerosol viene disperso, quindi la quantità di virus con i quali si viene a contatto è comunque minima, e forse non si ha la possibilità di essere infettati con l'Aerosol. Ma nell'ambiente chiuso l'Aerosol si può concentrare, se non c'è una reazione frequente. È ovvio che il virus permane e il soggetto può infettarsi anche in una sala vuota, lasciata però con una quantità di virus importante. Quindi cerchiamo di fare, soprattutto d'estate, una vita più possibilmente all'aperto e quando stiamo dentro cerchiamo di far areare o di chiedere la reazione delle sale, delle stanze. E poi la mascherina, continuo a ripetere, è il presidio più importante per la prevenzione. Chi non si è ammalato lo ha fatto probabilmente perché è stato sempre attento ad utilizzare la mascherina che, torno a ripetere, va cambiata questa tipo che porto io in FFP2 ogni 6-8 ore massimo, dipende poi dalla tipologia, da come è fabbricato, da tante cose. Quelle invece, cosiddette chirurgiche, vanno cambiate ogni 4-5 ore. Anche lì bisogna vedere però la tipologia, se sono a 2, 3 o 4 strati. E quindi non riutilizzare ripetutamente per giorni la stessa mascherina. E poi, purtroppo, abbiamo visto, ci ha cambiato un po' la vita questo Covid, evitare ancora le strette di mano perché purtroppo ci si può contagiare in quella maniera e evitare di stare molto vicini, mantenere il distanziamento sociale, come dicevo all'inizio dell'intervista, però all'esterno, perché all'interno non avrebbe senso. Grazie. 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 Grazie.